Tutto questo dibattito sulla libertà, no? Ecco, la libertà non c'era quando eravamo chiusi in casa, diciamo. Finiscono le restrizioni e qualcuno ha per il dibattito sulla libertà. È francamente incomprensibile. Capisco che, diciamo, c'è chi può avere dei timori, eccetera. Chi invece, la classe dirigente, e rispondo alla domanda tua, è semplicemente il responsabile o opportunista. Perché se lo fa un parlamentare, un leader politico, un candidato sindaco, no? Michetti che ha risposto, non sono un medico. È chiaro che lisciano il pelo all'opinione Novax. Provo a risponderti così, all'opinione pubblica Novax. Dopodiché io però ti rispondo con una domanda. Andranno tutti a votare? Cioè, queste sono le prime... Poi si traduce in voti, tu dici? Esattamente. Ho visto che molti politici hanno cominciato a mettere in guardia dal rischio dell'astensionismo. Cioè, il primo dato che noi dobbiamo vedere è la salute della nostra democrazia. Cioè, se col Covid si è infettata. E se quelle che una volta erano le periferie... Cioè, se ci sarà partecipazione e in che misura? Quello sarà un elemento molto importante di valutazione. Capisco? Domanda, il Novax va a votare Michetti? O il Novax è colui che magari nelle periferie... Cioè, dice, io non ci credo più nella democrazia. Quindi non vado a votare? Neanche vado a votare. Capisci? Ehi.